Il tempo in cui i clienti è arrivato è finito, quindi fare mercato significa muoversi sul mercato. Casa Imbastita Campus è una scuola che nasce da imprenditori per imprenditori. Siamo nell'era della conoscenza, pieni partiti per terra e programmazione, pianificazione, diarmi, analisi. Oggi non è più sufficiente lavorare bene, non è più sufficiente lavorare tanto. È necessario cambiare punto di vista. Che cosa ti costa? Provarci. Ma provarci davvero. Fare questo tipo di attività richiede tempo, richiede impegno e richiede il lavoro che dovete fare voi. È necessario acquisire competenze manageriali, marketing, finanza, gestione del personale, comunicazione. Il marketing, così come le cose di cui noi parliamo a Campus, sono semplici. L'unica cosa è che sono difficili da applicare. L'imprenditore che ha un miliardo di cose da fare rischia di disperdersi. Una bussola per tracciare una rotta sicura e consapevole. Ma che questo è fare una benedicazione? Essere notevoli, diversi, sapersi distinguere. Provateci. Venite a chiedere supporto. Noi non lo diamo. E tutto questo è Casa Embastita Campus.